Da quanto tempo hai detto che sei Ant-Man? Non molto. È capitato per caso. Voglio combattere i cattivi. Come fai tu? Sembra che io faccia casini ogni volta. Ti serve qualcuno che ti guardi le spalle? Serve! Tipo un socio. Dottor Pym, ho saputo che le è successo. Ha aperto il regno quantico in uno spaventoso fantasma che passa attraverso i muri e ha rubato la tecnologia. E questa Queen vuole conquistare il mondo. Tutto quello che abbiamo siete voi due. Ant-Man e Wasp. Insieme. Seguimi. Lei sembra... più intensa. Benone. Ciao, campione. Com'è andata a scuola? Suscettibile. Vuoi un succo di frutta e un formaggino? Ce l'hai veramente? Andata. I die. E' la cosa staff. Anche. I die. Spons exile Anche. 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 Grazie.